non possono ricominciare come avevo iniziato cinque anni fa quindi grazie grazie a tutti i cittadini di cerro e cantarupo e direi che questa volta è proprio la loro vittoria la vittoria dei cittadini un grazie che va ancora di più questa volta perché se la prima volta sono stata votata dai cittadini sulla fiducia che potessi fare meglio delle passate amministrazioni ora grazie perché con il loro voto i cittadini hanno voluto riconoscere la validità del lavoro svolto dalla nostra squadra un lavoro svolto ogni giorno con passione per il bene comune sono sempre stata e continuerò ad essere il sindaco di tutti la nuova squadra che mi affiancherà continuerà a lavorare per aumentare la coesione civica e il senso di comunità di cerro e cantarupo avvicinando sempre più le istituzioni comunali ai cittadini alla realtà associative e sportive ai commercianti infine ma non per importanza assicuro e rassicuro che a cerro maggiore non arriverà mai alcun veleno da quando ci sarò io a questa amministrazione in questa amministrazione la discarica sarà chiusa per sempre e senza alcun rischio per la salute e l'ambiente grazie ancora di cuore non vedo l'ora di incontrare con i cittadini per ringraziarli di persona nel nuovo centro cittadino che prenderà vita nei prossimi mesi grazie di cuore a tutti